Il primo tassello è stato inserito nel nuovo mosaico dell'Imolese. I rosso-blu nella prossima stagione saranno guidati da Emanuele Filippini. Ora però il club del presidente Spagnoli si attiverà sul mercato per formare una squadra che sappia stare al vertice del campionato di Serie D. Sicuramente ora il direttore sta lavorando, ora lavora fianco a fianco con il mister per capire realmente gli obiettivi sia in entrata e sia in quanto riguarda le riconferme. Quindi ho grande fiducia nel direttore che, ripeto, insieme a spalla a spalla col mister adesso cercheranno di costruire una squadra competitiva per il prossimo anno. Penso e spero che già dalla prossima settimana o a fine di questa di poter ufficializzare sicuramente delle conferme importanti che conosciamo benissimo, che hanno fatto bene in questi anni. Quindi conto che a fine di questa settimana riuscire, ripeto, a livello ufficiale nel tirare fuori la riconferme di giocatori importanti. Certo, ipotizzare un imolesi in Lega Pro nella prossima stagione al momento è un puro esercizio di prammatica. Stiamo lavorando con dei profili che possano fare le due categorie e nel caso di richiamo, anche a livello di strutture, siamo pronti per partire e mettere a norma, in questo caso, lo stadio per riuscire a fare Lega Pro. Ripeto, secondo me la percentuale sarà molto bassa, però, ripeto, se ci fosse questa chiamata ci faremo trovare pronti.